Vi presentiamo Litz di Velform, un prodotto innovativo di punta nella cura della pelle. Litz è il nuovo fantastico prodotto che solleva, ringiovanisce e tonifica la pelle del contorno a occhi, regalando dei risultati immediati che durano per tutto il giorno o tutta la notte. Guardate i risultati incredibili che donne e uomini hanno ottenuto con Litz. Queste foto non sono state ritoccate. Litz riduce la profondità delle rughe del viso, mentre levica e tonifica la pelle, in meno di 120 secondi. È un lifting in bottiglia e funziona sempre, garantito. Riceverete una confezione da 30 giorni del nostro incredibile siero tonificante Litz, irresponsabili di questi incredibili e sorprendenti risultati. Vi offriamo due flaconi a questo incredibile prezzo, ma abbiamo solo iniziato. Riceverete anche dei campioni deluxe del Litz Complete Age Care System, assolutamente compreso nel prezzo. L'esclusivo trattamento Litz per il contorno labbra ridurrà incredibilmente i segni dell'età sulla delicata pelle attorno alle labbra e sotto il naso, distenderà le linee di espressione e diminuirà i segni in pochi secondi. Il nostro fantastico trattamento Litz per la fronte e il collo rassoderà la pelle per eliminare le rughe e i solchi più profondi nelle zone del contorno del viso, in pochi secondi i segni dell'età scompariranno dalla vostra fronte e dal collo regalandovi sorprendenti risultati che tutti di certo noteranno. E il nostro trattamento unico per rimuovere le imperfezioni vi aiuterà a ridurre permanentemente le macchie scure dovute all'età o il decoloramento della pelle causato da eccessiva esposizione al sole proteggendo inoltre la vostra pelle dai danni futuri. Questo trattamento completo per la cura della pelle è il nostro regalo per voi ma se ordinate subito potrete accedere a un'offerta speciale per convertire i campioni in confezioni intere. Questa è la vostra occasione per cambiare radicalmente il vostro aspetto e l'idea che avete di voi stessi.